alla prima slide siete alla prima slide nella copertina e poi passate quindi alla seconda slide la seconda slide dice attenzione quello che leggerete nel dispensa è pericoloso hai avviato la registrazione? sì 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 quindi la seconda slide dice attenzione questo webinar può essere pericoloso se non vi lascerete ispirare ma questo è solo un po' per ridere tra noi poi la terza slide presenta invece due premi allora il primo lo conoscete tutti lo diamo a Manuela Canu perché si è messa in mezzo al mare e perché la sua passione coincide con la mia che è quella della fotografia e quindi penso che qualcuno si arrabbierà perché dirà ma questo premio è un premio di parte esatto perché i dei dell'Olimpo non sono affatto obiettivi se voi vi ricordate un po' di mitologia ne combinavano di cotte e di crude e non c'era certo una logica in quello che facevano quindi non sperate di trovare una logica nelle premiazioni di questo corso o perlomeno di non trovarla completamente ecco poi abbiamo daremo un premio che vi diremo anche quale domani a Maria Maria ha scritto un messaggio che è molto interessante nel forum generale perché da questo messaggio praticamente si evince il fatto che Maria abbia capito perfettamente tutto come funziona tutto il marchigegno ed è anche in grado di spiegarlo poi qui di fianco sulla destra voi trovate invece la tabella dei punti allora la tabella dei punti è stata inserita oggi perché oggi abbiamo cambiato la schermata la pagina di ingresso della piattaforma e questa tabella punti non serve per acquisire dei meriti all'interno del corso e non serve neanche per acquisire una valutazione finale non ci sarà una valutazione finale ovviamente la vostra partecipazione è assodata nel momento in cui voi fate alcune attività nel corso di queste settimane non ci sarà un controllo su questo chiaramente ma la tabella punti è un pretesto per parlare un po' anche di gamification cioè di fare in modo che ci sia anche una giocabilità in quello che facciamo e a questo proposito sarete voi stessi che inserirete nella tabella i punti e quindi attenzione attenzione prima di tutto a non barare ma questo so che non lo fate voi non siete tipi che si aumentano i punti però non dovete neanche cancellare quello degli altri perché anche questo è barare tra virgolette quindi questo può avvenire anche inavvertitamente perché magari fate clic su una cella e tac partono i 90 punti della collega capolista per dire e quindi attenzione dovete solo entrare nelle singole caselle e dovete associare i punti che vi sono indicati in alto per esempio per il messaggio di benvenuto ci saranno 10 punti a disposizione quindi se voi avete scritto un messaggio di benvenuto potete aggiungere 10 punti la partecipazione al webinar di oggi vale pensate un po' 25 punti quindi potete aggiungere questi punti poi ci sono dei compiti che adesso vi dirò anche quali sono e quindi a mano a mano che li svolgerete voi potrete aggiungere i vostri punti ora le tre muse che qui non sono presenti oggi sono quelle che seguiranno i vostri gruppi voi credo verso la metà della settimana aspettiamo ancora qualche nuovo ingresso sarete divise in gruppi questi gruppi avranno un numero paritario di partecipanti quindi non vi preoccupate se qualcuno di voi che ha la passione della poesia viene inserito fra coloro che hanno la passione dello sci per dire perché dobbiamo realizzare questi gruppi in modo che il numero dei partecipanti sia identico per questo vi abbiamo chiesto anche una seconda passione di riferimento allora quelle tre muse famose che voi in piattaforma avete un po' conosciuto e che oggi purtroppo non sono con noi guideranno questi tre gruppi e che cosa succederà? succederà che ci saranno anche dei punti per il gruppo vale a dire che la somma totale dei gruppi di ogni partecipante farà il punteggio di ciascun gruppo più qualche premio magari speciale perché se ci saranno delle attività assolutamente non complicate e comunque interessanti che coinvolgeranno il gruppo intero allora il gruppo intero avrà un punteggio perché questi punti alla fine del gioco? come dicevo prima perché è interessante inserire un meccanismo di questo genere che voi potrete in qualche modo poi adottare con i vostri studenti ma anche perché alla fine del corso ci saranno delle vere e proprie premiazioni 5 lavori finali ma questo poi ve lo spiegheremo con calma 5 lavori finali saranno premiati nella notte degli Oscar dunque non mi ricordo la data esatta ma uno dei primi giorni di luglio verranno selezionati 15 tra i migliori prodotti che vi diremo poi appunto di fare ma ripeto sono cose alla portata di tutti e tra questi 15 prodotti ne verranno selezionati 5 e nella nottata degli Oscar proprio così noi saremo collegati con un webinar chi vuole partecipare parteciperà e a mano a mano verranno resi pubblici i vincitori dal quinto al primo che riceveranno 5 premi per la loro attività ripeto non ha nessun valore i fini del corso in quanto tale sono solo dei meccanismi che però conoscendoli poi voi a vostra volta li potete anche utilizzare con i vostri studenti adattandoli allora oggi parliamo del setting di un ambiente pedagogico a distanza il capitolo 2 facendo anche però un piccolo richiamo al capitolo 1 nel capitolo 1 noi non abbiamo visto diciamo non abbiamo avuto un webinar avete solo letto alcune pagine del manuale che stiamo scrivendo e quindi dovremmo partire appunto dal capitolo 2 ma vediamo se nel capitolo 1 intanto alcuni elementi fondamentali intanto dobbiamo anche dire eccolo qua una sì sulla piattaforma poi questo ci ritorniamo dopo d'accordo perché mi sembra che abbiate tutti abbastanza capito come poter procedere e quindi passiamo al slide che si intitola piattaforma e ambiente dove trovate quindi sarebbe la slide numero 8 piattaforma e ambiente avete una rappresentazione di alcuni ambienti quindi c'è scritto Google Site Google Classroom e WeSchool questa slide serve solo per dirvi questa slide serve solo per dirvi che ci sono molti modi di creare degli ambienti in base alle piattaforme che si ha a disposizione anzi rovesciamo la questione diciamo che non tutte le piattaforme sono le più adatte per creare un ambiente come quello che avete visto all'interno di Elicona cioè del nostro corso per esempio se voi prendete la piattaforma Google Classroom che credo che molti di voi conoscano vedete che da questa slide è possibile creare degli ambienti distinti la stanza degli incontri, i cineforum e biblioteca forum game, sostegno, supporto, letteratura, biblioteca e così via ma non abbiamo una rappresentazione grafica se prendete una piattaforma come WeSchool anche lì potete organizzare in modo diverso rispetto a Google Classroom degli ambienti ma non c'è anche lì una rappresentazione grafica Moodle invece lo consente la difficoltà è che è una piattaforma un po' più complicata da utilizzare però vedete noi non andiamo oltre questo discorso delle piattaforme serve solo per chiarire il fatto che non tutti gli strumenti sono adeguati per creare un bel ambiente grafico però quello che vi voglio dire è che esiste una soluzione alternativa una soluzione che definirà anche un compito oggi che vi sarà spiegato più avanti ed è la soluzione che vedete sempre rimanendo su questa slide vedete che sulla parte di sinistra di questa slide dove c'è scritto Google Site voi avete l'immagine dell'ingresso in una piattaforma che è molto più accattivante grafica ed è anche semplice da realizzare in realtà non si tratta di un vero e proprio ambiente ma si tratta di una pagina internet una pagina web che è stata articolata seguendo un po' le indicazioni di elicona attraverso un aspetto grafico voi potete fare questo attraverso un'applicazione di Google della G Suite di Google che si chiama Google Site riceverete un breve tutorial molto semplice che vi spiegherà questo credo entro la giornata di domani per chi fosse interessato quindi questo ci fa capire una cosa ci fa capire e qui chiudo il discorso sul rapporto tra piattaforme e ambiente che quando noi parliamo di e-learning non dobbiamo mai confondere i due aspetti l'e-learning prevede a un certo livello prevede di utilizzare una piattaforma ma questa piattaforma può anche non corrispondere a un dato ambiente ciò su cui noi ci concentriamo invece proprio nel nostro corso è la creazione dell'ambiente allora passiamo alla slide successiva a prendere a distanza senza il learning credo che se avete letto la piattaforma cioè come si chiama il manuale avete capito che per insegnare a distanza non occorre necessariamente mettere in piedi un sistema fondato su piattaforme e ambienti e neanche su tecnologie elettroniche il riferimento qui è alla radio alla scuola radio elettra vedete che c'è un errore in radio poi lo correggeremo nella scuola radio elettra di Torino che è stata la più importante scuola a distanza che ha formato degli elettrotecnici degli operatori elettrici che molti dei quali hanno portato avanti delle aziende hanno contribuito alla riuscita del boom economico italiano negli anni 50 nel mercato degli elettrodomestici per esempio all'interno del manuale che vi è stato consegnato siamo sempre nel primo capitolo avete anche un esempio scrivere un bigliettino con istruzioni cioè voi potete anche utilizzare degli strumenti tradizionali una lettera, dei bigliettini scrivere ai vostri ragazzi per esempio provate a pensare che cosa può significare la chiusura di questo anno scolastico in cui credo non vi rivediate non abbiate la possibilità di rivedervi però un biglietto mandato dalle insegnanti di saluti con dei disegni che magari poi i ragazzini ricevono e poi questo biglietto può essere anche letto in un sistema come questo di videoconferenza loro potrebbero anche rispondere quindi questo mi serve per dirvi una cosa molto importante e che è questa in campo pedagogico non esistono delle tecnologie o delle metodologie che sono superate non siamo nel campo della medicina se io oggi vi proponessi di curarvi con le sanguisughe e coprirvi il corpo di sanguisughe voi mi prendereste per matto ma se io vi proponessi di fare una passeggiata lungo la spiaggia e di chiacchierare e fare dei disegni geometrici e spiegarvi l'area del rettangolo sulla sabbia come faceva Pitagora duemila anni fa e beh questo non sarebbe un metodo superato quindi attenzione perché la pedagogia non è una non segue lo sviluppo delle scienze per cui ci sono delle metodologie vecchie e inapplicabili no è tutto sempre buono e valido dipende ovviamente dalle scelte dell'insegnante che saranno scelte pedagogiche dal contesto didattico e così via poi vediamo la slide successiva che si intitola una questione di forma non di contenuto qui ne abbiamo parlato nel primo capitolo della dispensa l'apprendimento vedete che c'è scritto un titoletto che è apprendimento l'apprendimento si determina in base a tre caratteristiche uno per apprendere devono esistere delle conoscenze da apprendere e guardate che le conoscenze però possono anche esistere ma io non so che esistono e quindi se io non so che c'è qualche cosa da apprendere in un certo campo è chiaro che non lo potrò apprendere due che il soggetto in apprendimento grande o piccolo che sia sia nella condizione economica di apprendere nella dispensa trovate l'esempio di un master molto caro dell'università a Milano che si svolge a Milano e che richiede la presenza obbligatoria e mi sembra 14.000 euro di diretta annuale è chiaro che un insegnamento di questo genere se lo possono permettere le persone che sono nella condizione socio-economica di poterlo di poterlo insomma di potersi iscrivere e questo vale anche però per tanti altri cittadini italiani o immigrati non ancora cittadini italiani che hanno delle difficoltà socio-economiche nella frequentazione della scuola e poi deve esistere una motivazione ad apprendere cioè date le conoscenze date una situazione socio-economica adatta ovviamente ci va una motivazione le motivazioni chiaramente possono essere le più ampie il nostro compito è quello di mettere nella migliore condizione possibile chiunque ha a che fare con l'apprendimento mettono nella migliore condizione possibile per poter apprendere e l'ambiente quindi il tasto sul quale noi insistiamo particolarmente l'ambiente gioca un ruolo importante proprio nella creazione di una motivazione e anche nel primo punto cioè nella distribuzione dei contenuti nel rendere trasparenti i contenuti che si devono apprendere procediamo velocemente perché questo è solo un riassunto siamo alla slide successiva ingresso in piattaforma e presentazione allora qui questa slide vi propone semplicemente la dicotomia tra un atteggiamento istituzionale allora vieni ti spiego tutto queste sono le istruzioni e un atteggiamento invece volto alla scoperta allora non sempre noi dobbiamo dare delle istruzioni certe volte sì altre no quando noi possiamo capire quando non possiamo è meglio magari non dare delle istruzioni beh quando ci sono delle conoscenze pregresse che fanno sì che il ragazzino il bambino o l'adulto il nostro studente diciamo non si muovano come degli zombie in un ambiente completamente sconosciuto ora voi avete avuto un po' la sensazione in questa piattaforma a volte di trovarvi in un ambiente sconosciuto ma a parte qualche difficoltà tecnica poi tutti si sono orientati è stato un elemento di scoperta un elemento di scoperta che poggia su che cosa beh che poggia sulla vostra capacità di osservare di capire di essere insegnanti e quindi logicamente di capire anche come funziona un meccanismo di apprendimento cioè ci siamo basati su una sorta di prerequisiti che eravamo certi che voi aveste e l'abbiamo fatto senza la solita indagine sapete quando inizia un corso no i prerequisiti allora sai questo sai quell'altro cos'è cioè che sono cose veramente a volte abbastanza a volte servono ma molto spesso sono anche abbastanza inutili perché perché nel rapporto con le persone che si capisce poi queste persone che quali sono le loro difficoltà le problematiche e così via anzi in un rapporto dove siamo all'interno di un gruppo ora qui pensate che ci sono circa 300 persone dentro questa piattaforma quindi voi pensate che ricchezza di scambio potrebbe esserci e quindi perché non avvalersi di questa ricchezza perché categorizzare tutto perché fare delle inchieste per poi incasellare tutti quanti e quindi strutturare un corso in base a preconoscenze eccetera quando fra 5 minuti noi parleremo di Vygotsky e di come funziona realmente l'apprendimento e lo sviluppo del processo cognitivo noi ci renderemo conto che questa concezione molto meccanica molto A, B, C, D in realtà non è il modo con cui normalmente si apprende passiamo alla slide successiva tecniche di benvenuto e di accoglienza allora che cosa possiamo fare di alternativo beh ma è semplice noi abbiamo un'alternativa sotto gli occhi ce l'avete tutti voi fin da quando siete nati qual è questa alternativa? se ci pensate un momento non è complicato arrivarci è l'alternativa della narrazione che cosa c'è di più bello che sentire una storia una bella storia che cosa c'è di più bello che raccontare una bella storia e addirittura creare o inventare una bella storia dunque questo è l'elemento che può essere davvero trainante nei confronti dei soggetti con cui abbiamo a che fare allora perché non costruire un corso e qui non parlo più solo di corso a distanza parlo proprio di trovare anche nel vostro ambiente scolastico tradizionale dei momenti per caratterizzare in modo narrativo la procedura di insegnamento qui vedete la semplificazione è molto semplice abbiamo un quando e i tempi e poi abbiamo un che cosa l'accoglienza è stata divisa in quattro parti l'annuncio prima dell'ingresso in piattaforma coloro che tra voi perché non tutti purtroppo hanno potuto ricevere il trailer del corso prima di entrare perché ci sono stati per esempio degli errori nella scrittura delle mail una mail fornita non era quella poi che si andava a vedere insomma quindi non tutti hanno visto il trailer però il trailer quindi l'annuncio lanciato prima del corso sotto forma di trailer proprio non sotto forma di programma del corso cioè guardate che faremo questo in dieci lezioni poi ci sarà questo quell'altro gli obiettivi saranno questi ma lasciamo che gli obiettivi siano le persone che parteciperanno a scoprirlo con il loro piacere noi annunciamo annunciamo attraverso un trailer che suscita un po' di mistero un po' di suspense poi c'è l'ingresso e l'ingresso non è accompagnato quindi deve esserci un terzo momento che sarà quello dell'ambientazione e l'ambientazione funziona attraverso un accompagnamento parziale avete visto che qualche musa si è fatta viva e ha cercato di dare una mano però non diciamo non è stato riorganizzato tutto nella funzione di favorire questa ambientazione è stata favorita solo parzialmente perché perché l'oggetto di questa prima parte è appunto cercare di capire che cosa vuol dire organizzare un insegnamento fondato su una scoperta e poi c'è l'imbarco e allora l'imbarco abbiamo delle indicazioni abbiamo delle cose da fare e quest'ultima parte devo dire che poi tranquillizza anche perché uno dice ah beh allora devo fare questo devo fare quell'altro eccetera eccetera vediamo la prossima slide quella successiva che si intitola ancora tecniche di benvenuto e di accoglienza siamo sempre all'interno del primo capitolo del manuale quindi abbiamo l'annuncio del corso l'ingresso ambientazione in barco qui c'è una spiegazione più sviluppata naturalmente la potete leggere quello che ovviamente io faccio oggi non è di leggervi tutto il manuale chiaramente ma darvi delle indicazioni di lettura affinché voi possiate poi procedere bene la terza slide che si intitola sempre tecniche di benvenuti di accoglienza che è la numero 14 come slide parla di messaggio di benvenuto strumenti applicazioni da utilizzare obiettivi del corso ecco fermiamoci sugli obiettivi del corso gli obiettivi del corso vengono annunciati in termini metaforici e guardate la questione è molto semplice se noi vi avessimo proposto un corso nel quale per esempio l'obiettivo sarebbe stato quello di apprendere delle tecniche di costruzione grafica e rappresentazione visuale di un'ambientazione fondata su piattaforme tecniche a scelta io non penso che questo obiettivo così espresso potesse suscitare il vostro interesse e credo neanche la vostra comprensione quindi dovendo scegliere fra due cose non comprensibili vale a dire un'enunciazione attraverso una metafora e un'enunciazione tecnica di tipo tradizionale meglio la prima meglio un'enunciazione attraverso una metafora cioè attraverso una storia nel quarto capitolo che dobbiamo ancora vedere ovviamente parleremo di narrazione proprio anche di meccanismi di storytelling e quindi proprio anche di come fare come costruire una narrazione in questo senso e vedremo che significato ha in questo caso la costruzione di un sistema narrativo che però abbiamo messo in campo attraverso una metafora che è quella di di Delphi che è quella appunto di di Licona le metafore possono essere tante le più svariate possono andare dai giochetti della pimpa fino a guerre stellari per i bambini più grandicelli questo ovviamente è una scelta però la metafora deve essere precisa deve fondarsi su degli aspetti storici reali dei personaggi e così via quindi questo è un po' il riassunto del primo capitolo adesso cambiamo slide e siamo all'accoglienze e tecniche di accoglienza che è sbagliato il titolo perché qui siamo al secondo capitolo vedete questo è il coppia in colla quindi secondo capitolo è il capitolo del setting quindi poi vi consiglieremo ovviamente le slide corrette il secondo capitolo è questa schermata blu la numero 15 e il titolo dell'argomento è il setting passiamo alla schermata successiva che è la numero 16 la numero 16 che riporta questi disegnini questi disegnini che cosa rappresentano rappresentano un po' anche quello che abbiamo discusso con la dottoressa Pigozzi sabato e cioè partiamo dall'ultimo disegnino in basso a destra dove c'è la rappresentazione di una figura che viene condotta a scuola vi ricordate quello che si era detto e cioè il concetto di asilum di portare altrove questi bambini in modo che possano staccarsi dal loro ambiente familiare nell'antica Grecia c'era anche il termine di scolè scolè significa tempo libero voi pensate gli antichi greci avevano definito la scuola come tempo libero perché tempo libero perché all'epoca i bambini lavoravano lavoravano erano purtroppo adibiti a delle fatiche dei grossi impegni per cui il toglierli da questa attività era una liberazione che consentiva poi loro ovviamente di apprendere però vedete com'è interessante questo fatto che la scuola l'apprendimento siano legati a un piacere cosa che del resto vi ha spiegato anche Laura Sabato il piacere che durante il tempo libero io possa assumere cultura possa migliorare le mie conoscenze le mie capacità quindi un condurre a condurre a significa ovviamente che noi in una didattica a distanza come questa non abbiamo un ambiente e dunque una delle giustificazioni della formazione anche semplicemente di un'idea di ambiente deriva proprio da questo cioè dal portare via i ragazzini dal loro ambiente dal nucleo in cui loro si trovano costretti in questo periodo e per questo naturalmente noi non parleremo di FAD è un bruttissimo termine questo o DAD FAD il termine da utilizzare è e-learning è proprio il termine originale è il termine riconosciuto diffuso da 30 anni a questa parte che fonda il meccanismo dell'apprendimento a distanza con alcune regole e non FAD DAD e dall'e-learning deriva anche la concezione poi della strutturazione di un ambiente e da lì poi delle tecniche di storytelling che sono quelle che vediamo proprio in questo corso passiamo alla slide successiva che è la numero 17 ora qui io vi pongo un un problema voglio esaminare con voi una questione la questione è la seguente viviamo in una società mediatica la possiamo definire come vogliamo ovviamente da un punto di vista economico sociale però certamente l'aspetto della dell'importanza che i media hanno all'interno della nostra società è sicuramente dirompente non solo ma questo aspetto è aumentato ora io penso che voi abbiate dei nonni che vi hanno detto qualche volta magari anche dei genitori che vi hanno detto qualche volta l'ha detto la televisione dove l'hai sentito l'ho sentito in televisione oggi questa formula è sostituita da una serie di altre formule tra le quali è preeminente l'ha detto internet l'ho visto su internet dove perché i media i mezzi di trasmissione delle informazioni sono aumentati sono aumentati di numero sono aumentati per potenza e sono aumentati però anche cosa che non esisteva all'epoca dei vostri genitori non esisteva assolutamente la possibilità di costruire dei canali di comunicazione ci occuperemo dei canali di comunicazione cioè della multicanalità nella settimana successiva nel terzo capitolo però oggi dobbiamo fare una riflessione che è la seguente questa moltiplicazione di media e il fatto che chiunque possa a sua volta gestire un media voi pensate che è molto semplice aprire oggi un canale televisivo un canale radiofonico perché non abbiamo più a che fare con i segnali di trasmissione televisiva o con i segnali dell'etere ma è sufficiente la telematica per poter mettere insieme dei veri e propri palinsesti e sono sicuro che tra voi tra i vostri studenti specialmente intorno ai 9-10 anni ci sarà qualcuno che potrebbe anche essere definito come youtuber cioè che normalmente produce dei contenuti bene noi dobbiamo fare una riflessione perché perché molto spesso gli insegnanti cercano di fare una cosa giusta che è quella di organizzare una rappresentazione che fornisca allo studente al ragazzino al bambino piccolo grande che sia degli strumenti analoghi a quelli che sono proposti a livello mediatico facciamo un esempio parliamo prendiamo un esempio di scuola dell'infanzia che in questo modo ci capiamo meglio perché rappresenta la scuola dell'infanzia quella che oggi ha le maggiori difficoltà dal punto di vista della didattica a distanza facciamo questo esempio diciamo che l'insegnante vuole svolgere un'attività che ha a che fare con lo schema corporeo con i suoi ragazzini noi abbiamo diviso questa lo step di questa attività in cinque passaggi lo vedete qui proprio nella tabella che avete sulla vostra destra all'interno di questa slide che cosa fa l'insegnante normalmente racconta una storia e poi propone dell'attività la storia viene registrata magari anche attraverso un cellulare poi in qualche modo viene consegnata oppure viene rappresentata direttamente all'interno di un incontro come quello che stiamo facendo noi oggi allora abbiamo che per esempio il bambino non conosce il corpo combina magari qualche pasticcio trova una soluzione la soluzione lo porta a comprendere lo schema corporeo e la sua importanza e a questo punto bambini facciamo un'attività che riguarda lo schema corporeo ecco vedete che nello sfondo di questa slide in sottofondo avete tutta una serie di attività che sono concepite come questa e che però sono prodotte da canali televisivi da network qual è la questione che riguarda un'attività di questo genere sono due la prima è che per l'insegnante è molto complicato competere con i grandi network è impossibile l'insegnante a meno che non abbia frequentato delle lezioni di edizione teatro cinema non è in grado di raggiungere la perfezione di attori pagati per fare questo lavoro non ha gli strumenti molto spesso deve lavorare con degli strumenti di ripiego non ha la tecnologia le illuminazioni per fare un bel film con le belle luci i bei colori una bella scenografia non può competere su questo piano però questo è un piano affascinante è un piano che coinvolge i bambini sono incollati alla televisione o a youtube quando youtube ripropone ciò che i network hanno passato ma guardate che per creare queste trasmissioni sono impiegate delle competenze straordinarie noi parleremo un guest speaker ve lo annuncio già un guest speaker è un grande direttore sarà un grande direttore della fotografia e regista uno di quelli che ha innovato il mondo del network che della televisione con la trasmissione non solo moda e che avremo ospite appunto uno stiamo concordando la giornata sarà un sabato probabilmente e avremo modo di parlare con lui anche di queste cose ma ciò di cui noi dobbiamo renderci conto è che dietro questi network c'è un apparato stratosferico che fa sì che quel prodotto sia un prodotto di un certo livello noi non possiamo competere cioè se noi riprendessimo questo schema che è esattamente lo schema che viene proposto dai network noi non otterremmo lo stesso risultato perché noi possiamo contare su una sola cosa l'affettività dei nostri studenti l'affettività è l'unico legame che fa sì che il nostro bambino guardi quello che noi facciamo dicendo se noi fossimo all'interno di un canale normale cambierebbe canale cambierebbe canale perché non c'è niente da fare la seduzione scientificamente organizzata dei media è sicuramente superiore ma noi riusciamo a tenerlo riusciamo a tenerlo perché c'è dell'affettività possiamo però cercare di migliorare questo aspetto allora io voglio suggerirvi alcuni meccanismi per migliorarlo passiamo alla slide successiva perché l'affettività è importante no di più che importante è il fondamento di un rapporto tra un insegnante e i soggetti in apprendimento dico soggetti quando voglio parlare di persone di tutte le età da 0 a 90 anni dei soggetti è l'affettività l'affet il sentimento che viene messo in gioco ma noi possiamo però fare qualche cosa di più e quindi possiamo dire guarda io non sarò nella condizione di fare chissà quali effetti speciali ma d'altra parte non mi interessa neanche perché il mio scopo è differenziarmi da questo tipo di comunicazione questo deve essere molto chiaro noi ci dobbiamo realmente differenziare da questa logica e proporne un'altra e un'altra allora è questa proviamo a ripetere quella storia però inserendo all'interno della storia delle attività che spezzano la narrazione e fanno sì che questo racconto non sia sviluppato in quei 20 minuti e quindi proposto in una sola soluzione ma proposto lungo un arco temporale maggiore e cioè abbiamo il bambino che non conosce il corpo quindi noi raccontiamo questa storia quando dico raccontiamo vuol dire che lo potete fare con i pupazzetti lo potete fare con delle animazioni lo potete fare con la voce lo potete fare con le mani non sto parlando del lo strumento che utilizzerete per raccontare parlo proprio della narrazione pura quindi noi racconteremo all'inizio il bambino che non conosce il corpo vedete un pupazzo una figurina quello che volete ci interrompiamo non continuiamo la storia e proponiamo un'attività rappresenta tu questo bambino nella stanza giochiamo abbiamo una webcam spegni la luce muoviti nella stanza che cosa succede ridiamo perché abbiamo diversi bambini che fanno la stessa cosa possiamo registrarle se ne vogliamo queste rappresentazioni le rivediamo allora signori e signore ecco una prima caratteristica fondamentale che gioca a nostro favore e a svantaggio totale dei grandi network e cioè noi a differenza loro abbiamo la possibilità e la necessità di prenderci tutto il tempo che vogliamo per condurre importo un'attività pedagogica per quale motivo ma perché noi ci occupiamo di pedagogia loro di marketing sono due cose diverse nell'esempio di prima l'art attack del momento il suo scopo non è insegnare qualche cosa ai bambini questo deve essere molto chiaro ma è vendere i contenuti pubblicitari che sono inseriti nella trasmissione o che fanno parte del palinsesto e dunque la trasmissione è uno strumento per contattare i genitori attraverso la mediazione del figlio siamo in un ambito di consumo di consumo mediatico non di insegnamento pedagogico questa distinzione deve essere chiara e oggi non è così chiara oggi non è così chiara perché l'influenza mediatica è tale che tende a confondere le istanze pedagogiche con quelle invece legate al marketing e alla comunicazione e noi dobbiamo operare con una cetta dobbiamo proprio tagliare questa unione e riseparare questi due settori e lo possiamo fare solo se noi rappresentiamo qualche cosa di diverso appropriandoci dei suoi fondamenti uno di questi fondamenti è il tempo il tempo necessario per sviluppare un'attività prendiamoci tutto il tempo necessario quindi se poi voi continuate a leggere adesso io non continuo oltre perché avete la dispensa e il manuale quindi passeremo avanti ma se voi notate questi step sono inframmezzati ognuno di loro da attività precise vuol dire che questa attività cioè l'attività di una storia che viene che viene bruciata e consumata nell'arco di 20 minuti mezz'ora un'ora in realtà è un'attività che può essere portata avanti per un paio di settimane due o tre settimane addirittura perché noi possiamo combinare tra loro diverse attività e possiamo dire bene bambini vi ricordate la storia dello schema corporeo del bambino che bene vogliamo andare avanti con questa storia andiamo avanti seconda puntata e intanto poi presentiamo un altro argomento e poi un altro e poi li riprendiamo ma è chiaro come il sole che per svolgere un'attività di questo genere abbiamo bisogno di un ambiente dobbiamo fare in modo che il bambino identifichi quello che stiamo facendo identifichi le differenze tra un'attività e l'altra le aree che sono messe in gioco sia molto chiara questa distinzione affinché lui si possa ritrovare possa ritrovare il filo di questa attività e ovviamente poi qui nel manuale non ne parlo ma voi poi siete in grado di stabilire tutte le griglie che vi interessano per valutare i vari momenti i vari aspetti eccetera questo sarà oggetto tra l'altro anche della parte introduttiva del quarto capitolo di questo manuale quindi del quarto step del nostro del nostro corso ma voi siete insegnanti avete in mano tutti gli strumenti pedagogici per articolare questo genere di cose quello che io vi dico è attenzione attività mediatica network è una cosa attività pedagogica è un'altra noi dobbiamo fondarci sugli elementi distintivi di un'attività pedagogica non su quelli caratteristici di un'attività mediatica anzi possiamo anche utilizzare chi di voi fosse in grado per esempio è legittimo è legittimo anche dal punto di vista dei diritti d'autore non so se siete al corrente di questo casomai possiamo poi aprire una parentesi nel prossimo periodo su questo ma l'insegnante ha il diritto di prendere delle trasmissioni registrate tagliarle utilizzarle per attività didattiche quindi voi potrete anche prendere un'attività fatta bene la scomponete e lì però intervenite con la vostra professione che è quella dell'insegnante e non quella ovviamente di fare regista al direttore della fotografia o la subret di questi di questi spettacoli una cosa passiamo alla prossima slide che è la numero 19 un po' di storia ambienti telematici e comunità virtuali abbiamo parlato di ambienti abbiamo parlato di piattaforme è interessante sapere da dove arrivano queste cose allora guardate lì ho organizzato in questo manuale un capitolo dedicato a questo io credo che sarà per voi una lettura molto interessante e forse molti di voi non conoscono neanche questa storia ecco qui correggiamo un errore che è comunità e non comunitò vedete quel cerchio rosso che cos'è una comunità allora la comunità le comunità nascono nascono negli anni 80 addirittura poi si sviluppano negli anni 90 sono delle comunità che sono legate a un sistema di trasmissione vedete queste immagini c'è uno sfondo nero e poi ci sono dei caratteri gialli anche fosforescenti perché si scriveva con la tastiera e queste comunità erano quelle delle bbs bulletin board system e la gente si riuniva in queste comunità scrivendo non c'era grafica non c'era niente non è il web che conoscete voi oggi erano reti telematiche ma erano reti telematiche peer to peer io premevo un tasto f4 f4 potevo rispondere al messaggio di qualcun altro e lui vedeva tutte le sue risposte vi faccio un esempio uno lo trovate sul libro è la storia di Alice una storia interessante una ragazza a cui viene salvata la vita in India siamo all'inizio degli anni 90 grazie a queste comunità virtuali che viaggiavano sui bulletin board system e un altro esempio quello lo leggerete sul libro questo invece non l'ho scritto ve lo dico a voce voi pensate che in California in quegli anni le mamme californiane in San Francisco molte mamme erano connesse con questi computer i computer non avevano grafica non avevano niente non c'era desktop era tutta linea di comando si poteva solo scrivere e si scrivevano si scrivevano un sacco e sapete cosa avevano fatto? che razza di comunità avevano messo in piedi? beh avevano messo in piedi una comunità per discutere dei pediatri e i pediatri a San Francisco negli anni 90 tremavano tremavano perché le mamme attraverso questo bulletin board system denunciavano i pediatri che davano delle ricette indicazioni sbagliate non erano attenti si era determinata un 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 passaparola un passaparola che ha portato la comunità pediatrica a migliorare a svilupparsi a interloquire meglio con le mamme di questa comunità ora questi esempi sono spariti non ci sono più poi vedremo perché che cosa è successo ma questo agli albori agli albori ecco le BBS erano questo e uno dei grandi giornalisti che le documentava e anche direttore di alcuni di questi bulletin board system era Howard Rengold Howard Rengold che è passato completamente nel dimenticatorio ma che ha scritto dei libri interi degli articoli anche interessantissimi adesso vi propongo un gioco e mentre fate questo gioco possiamo anche fare due chiacchiere io guardo la chat non so se sapete che cos'è un codice QR allora se sapete cos'è un codice QR potete inquadrarlo con il vostro cellulare e sarete portati a questo sondaggio altrimenti il pdf dovrebbe spero che sia un pdf interattivo fate click fate click qui sull'indirizzo che avete sotto il codice QR che comunque io adesso vi metto nella chat a scanso di equivoci e mettetevi alla prova vediamo che sapete secondo voi che cos'è una comunità una community come la definireste intanto spero che mi abbiate seguito fino adesso senza problemi con le slide ecco purtroppo quello che non posso fare perché non posso a causa di questo problema tecnico improvviso che mi toccherà studiare nelle prossime ore non posso condividere risultati grafici con cioè la rappresentazione grafica delle vostre risposte pazienza vediamo però vi farò una foto questo sì e ve la potrò inviare oppure vi do la possibilità di guardare i risultati quindi comunità sondaggio abbiamo attualmente 13 risposte ecco voi potete visualizzare i grafici riepilogativi e anche le risposte in formato testo quindi se fate click sul pulsantino in alto dove c'è scritto risposte voi avrete la possibilità di vedere eccolo qua in tempo reale il grafico delle risposte vediamo 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 scusi dove? quando rispondete al sondaggio in alto avete due opzioni domande e risposte potete visualizzare ok l'ho già chiuso però quindi devo rientrare sì lo puoi riaprire siamo a 49 risposte e veloci vediamo vediamo interessante immagino che stia procedendo tutto bene vi sento taciturne al lavoro quando si tace o si mangia e il menù è buono o si lavora o si pensa stiamo leggendo e scegliendo le risposte eh già giusto guarda Piera com'è concentrata tutti concentrati guarda ma hai visto tanti insegnanti così concentrati io mi sono persa dove? eh appunto non lo so certo che è geniale mi sono persa la domanda non può essere dove perché se no se tu avessi saputo rispondere a questa domanda allora mi si è chiusa praticamente perché ho cliccato nel link sotto il codice QR forse ho sbagliato sì nel link sotto il codice QR ti si è chiuso il pdf e ti si è aperto il browser giusto? per rispondere adesso ho chiuso tutto quindi dovrò riaprirmi il dovrai riapirti il pdf sì allora che trovi in chat sempre Elita ti darei un suggerimento io visto che ci ha visto che andiamo verso l'estate suggerirei di cambiare questo cappotto cappello e tutto con un'immagine più primaverile giusto? questa era lì insomma si cambierà anche perché stando tu a Napoli mi sembra che proprio non ci siamo hai giusto? giusto? com'è il tempo lì? oggi? caldo caldo io soltanto ma di testa oggi veramente ma il link è quello di pagina 19 o anche quello di pagina 20 slide 20 no il link è a pagina 19 solo 19 20 è un'altra cosa facciamo dopo ma il link del sondaggio l'ho messo dentro la chat dove dico Giuseppe cosa ha fatto quello di pagina slide 19 non sapere stavo guardando sono sbirciando e ho visto un'altra pagina 20 ah tu vai avanti sbirci Carmen 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 lo sai che diamo anche dei premi negativi eh sì per esempio possiamo anche toglierti così 20 punti di poca io ho compilato un modulo un questionario un modulo sì quello dovevi fare non c'è il 3p io sono ben arrivata dovete scusarmi ah copri me anche chitarra arriva dalla volta abbiamo già 98 risposte manca tutto il gruppo del mio istituto proprio per questo motivo ah guarda come mai manca tutto il gruppo del tuo istituto e avevamo un collegio al quale non era possibile mancare no senti devo dire Piera dovevamo approvare un bel po' di documenti no Piera ascolta devo dire documentazione di fine anno shh Piera ti dico una cosa nell'orecchio ascolta mi ascolti nell'orecchio sì guarda che è meglio venire qui che andare a un collegio docenti ogni tanto sbirciavo ma non ho potuto fare più concordo pienamente io invece avevo departamenti abbiamo finito adesso e quindi mi sono collegata adesso sono riuscita a rientrare nella PDF clicco sotto il codice del QR sì ok è troppo il sondaggio sì adesso io te lo rimetto qui vedi nella chat questo è il link al sondaggio eccolo qua eccolo qua ok ci sono siamo tanti vediamo quanti l'hanno compilato che punto siamo a 105 intanto possiamo già vedere alcuni risultati per esempio vediamo quelli che hanno minor punteggio devono appartenere a uno stesso territorio vedete hanno il 2,8 e anche condividere una medesima tradizione 2,8 1,8% perché? ma perché mi sembra anche giusto perché ormai le comunità il concetto di comunità è abbastanza slegato da un territorio o perlomeno si possono formare delle comunità che sono indipendenti dal territorio certo non è più un vincolo così fondamentale mi scusi da dove rientro sul pdf perché adesso vedo lei e basta allora dal pdf rientri cosa vedi adesso? vedo lei vedi me sì sì vedi me ma sul pdf tu hai il link ah ritorno nella chat vanni alla chat ritorno nella chat c'è il link del pdf e così lo puoi rivedere vabbè ora glielo rimetto Alberto sì grazie può darsi che sia sotto la pagina di zoom se iconizzi magari la tuvi sotto anche certo dove? scusami se iconizzi la pagina di zoom probabilmente il pdf ce l'hai dietro ti sei chiusa la finestra perché si è aperto nuovamente zoom sì brava brava sei Piera? sei tu che hai parlato? comunque ho messo il link in chat del pdf grazie si può ridurre l'immagine ad icona e poi appare anche il pdf guardate che vi ho dato la possibilità di vedere i risultati quindi li potete vedere se fate click su risposte avete il grafico dei risultati vedi le risposte precedenti no? sì vedi tutte le risposte 121 siamo sì esatto bravo esatto 121 siamo 134 ah ecco vedo il grafico sì anche io lo vedo 121 121 sì vedi 121 risposte ma nel questionario vedi questo sondaggio ok è un modulo di google ma perché io non riesco a vederlo così le risposte io non riesco a vederle cosa sto perdendo tu non riesci a vedere la risposta nella schermata dopo che tu invii il tuo ti viene fuori comunità sondaggio anonimo la tua risposta è stata registrata e sotto c'è vedi le risposte precedenti clicchi di e ti dai il file sì così con tutte le risposte le percentuali sì 122 risposte in questo momento come dovrebbe essere io proviamo provo provo a rifarlo può darsi che ti è sfuggito qualcosa proviamo a rifarlo bravo bravo ecco intanto sono riuscito a mettere la risposta mettere più partecipanti nella visione, quindi abbiamo una schermata più piena. E così adesso lo vedo. Ah sì, cosa dobbiamo fare? Tornare a vedere lei o al pdf? No, adesso tornate a vedere me, oppure guardate i risultati che commentiamo rapidamente. Io l'ho vista, ok, io l'ho vista, sì, non tornate a lei. Bene, allora commentiamo. Se la sento, ora la vedo. Perfetto. Allora, sentite, prima di tutto c'è qualcuno tra voi che ha barato, perché, eh sì, c'è qualche baro qui, eh, lo becchiamo. Io ne ho fatto due, perché, eh, per poter vedere le risposte. Eh, hai capito, perché, perché io c'ho qua, siamo in 132, le risposte sono 134. Ho dovuto rifarlo per vedere le risposte. Penso di aver dato le stesse. Io l'ho fatto, sia da cellulare che da computer. Eh, anch'io. Ah, fantasma, ma non è così che funziona. Forse per quello. Eh, ma senti, non è che tu vai a votare in tutti i seggi, eh, uno. Non sarebbe male. Cioè, se è lungo la strada tu trovi cinque seggi, non è che metti in uno. Ma non, ma non, ma non, ma non mi permetteva di vedere i risultati. Eh, neanche io le freddo. Sono tutte scuse. Guardate che un fattore. Sono tutte scuse. Particamente Barbara Letteri ha messo il sondaggio, cioè praticamente uno screenshot del sondaggio. Brava. Per cui lo potete vedere dentro la chat. Aprite quel file, schermata, eccetera, eccetera. Perfetto. Brava Barbara. La prossima volta bisogna limitare le risposte. Chi è Barbara Letteri? Dov'è Barbara Letteri? Brava, brava. Ne teniamo conto, eh? Può darsi che poi per i prossimi premi, eh? ne teniamo conto assolutamente allora, procediamo rapidamente perché dobbiamo parlare anche di altro e vi voglio dire questo che non esiste giustamente una definizione del termine virtual community anzi, molto spesso le definizioni sono molto limitate quelle che troviamo in giro io personalmente ritengo e vedete che voi anche con me ritengo che alla fine ciò che distingue una comunità è se i soggetti che vi appartengono ritengono di far parte di una comunità perché se non c'è questo senso di appartenenza non può esserci una comunità e vedete che anche la risposta che avete dato che ben 92 di voi hanno scelto questa risposta e un'altra riguarda l'identità quindi identità senso di appartenenza poi il resto che debbano giocare fare delle attività eccetera naturalmente questo dipende possono esistere anche delle comunità di meditazione dove non si fa niente praticamente però ci si riconosce all'interno c'è niente nel senso di attività motorie impegnative o di altra natura e quindi però questo è importante sentirsi parte di una comunità e allora ecco dove voglio arrivare sentirsi parte di una comunità significa e ritorniamo alle nostre slide significa costruire un ambiente passiamo a quella successiva 20 perché l'ambiente è quello che ti dà anche questo senso di appartenenza che noi interessa allora qui io in questo capitolo faccio una breve storia sul fatto che la rete internet così come voi la conoscete quindi il web una rete grafica è nata proprio per eliminare questi bulletin board system queste reti telematiche che erano prive di grafica per quale motivo? il motivo è molto semplice non c'è marketing non c'è consumo all'interno di una piattaforma a linea di comando io devo farti vedere i prodotti devo mostrarti le cose devo far girare i filmati le animazioni devo riprodurre il mondo televisivo all'interno di internet e quindi sono stati adottati dei protocolli a livello internazionale quelli del world wide web che sono quelli che consentono alla rete internet di esprimersi in modo grafico e oggi anche in modo come dire più tecnico attraverso javascript attraverso html5 quindi addirittura applicazioni all'interno della rete stessa e che voi conoscete benissimo perché con i bambini le utilizzate ecco che quindi il marketing il consumo ha ucciso l'esperienza questa prima esperienza delle bbs ha portato la rete a diventare un luogo di consumo dove uno ha l'illusione ha l'illusione di scrivere su facebook e avere poi 50 mi piace 10.000 mi piace che cosa intelligente che hai scritto eccetera ma lo scopo della rete non è questo lo scopo della rete è classificare i comportamenti dei soggetti per proporre un marketing personalizzato qui entreremmo in una questione così molto insomma tecnica che non dobbiamo noi sviluppare se l'argomento vi può interessare noi possiamo tranquillamente avere dei guest speaker di grande spessore che ci possono eventualmente anche parlare di questo però volevo arrivare lì volevo arrivare al fatto che non è la rete che stabilisce questi legami che costruiscono le community odierne e specialmente non è la rete che costituisce delle community pedagogiche allora se siete veloci e rapidi in tre minuti riuscite a rispondere a questa domanda perché Reingold nel 1992 tra i giù di lì aveva fatto una previsione e io ho riportato il testo che Reingold aveva scritto in quegli anni e voi mi dovete dire con sì o no se questo testo è attuale oggi cioè quello che diceva Reingold quanti anni fa un bel po' facciamo due conti cosa è 2020 quindi più di 30 anni fa ancora oggi è valido io rimetto il link lo trovate anche nella chat per tutti eccolo qua vediamo se così a brucia leggete quello che diceva Reingold un tot di anni fa le previsioni di Reingold ecco qua vediamo le risposte i sì stanno dominando devo dire ecco io sono sempre l'ultima no no sei l'ultima hanno risposto 35 38 40 vedete intanto che voi rispondete io vi annuncio già qualche cosa del seguito del seguito dei nostri corsi è che quando applicate una modalità di cosiddetta didattica a distanza attraverso un sistema di web conference come questo io suggerisco sempre di spezzare le lezioni spezzare il racconto con delle attività ne abbiamo parlato prima ma queste sono rappresentano un altro tipo di attività sondaggi risposte che poi vedremo anche come organizzare e che servono qui sto parlando soprattutto alla scuola primaria servono anche per non solo mantenere viva l'attenzione dei bambini ma sollecitare le loro riflessioni su quello che stiamo facendo e quindi sono degli strumenti di consolidamento dell'apprendimento ne parleremo però non oggi ma ne parleremo la volta prossima cioè nel terzo capitolo terzo step beh c'è quasi un'unanimità di vedute il 93,9% di voi ritiene e che le previsioni di Rengel siano confermate oggi bene allora io direi che possiamo continuare possiamo continuare riprendiamo le slide perché adesso viene un argomento di aspetta Alberto sì scusami guarda che c'è una domanda se vuoi saperla subito di Adriana Florisi quindi ma lo scopo della rete non è comunicare? no assolutamente no lo scopo della rete è marketing è vendere anzi ti dirò di più se voi andate a cercare non le ho pubblicate ma le ho si possono trovare queste statistiche il business maggiore della rete telematica è la pornografia la pedofilia sono tutti gli scambi illeciti poi al terzo posto viene il marketing e non è nata per questo nel modo più assoluto non esiste nessun benefattore mondiale che abbia creato la rete per noi poveri mortali permetterci di comunicare è solo ed esclusivamente uno strumento di marketing e tracciamento dei comportamenti dei soggetti a fine appunto di marketing e vendita sia di beni leciti che illeciti e quelli leciti sono maggiori c'è lo scambio di beni leciti nella rete maggiore rispetto a quello di beni leciti no no la rete i siti non esistono senza rete la rete è la rete telematica cioè quello che mette in connessione tutti i computer i siti sono la rappresentazione grafica della rete telematica ma il web non è la rete il world wide web è la rappresentazione telematica della rete negli anni 90 la rete non aveva una rappresentazione grafica ed era linea di comando ma era la stessa identica cosa era una rete telematica esattamente come quella di oggi e funzionava più o meno nello stesso modo sopra questa rete hanno costruito il web il web è la rappresentazione grafica della rete un sito non è la rete la rete sono i bit che mettono in connessione i diversi nodi comunque nel libro nel libro che vedete poi nel secondo capitolo lo spiego molto bene questo aspetto perché nasce da un'esigenza militare di tipo militare che poi è stata messa a disposizione delle grandi aziende grandi partner i primi sono la Xeros tutti i grandi colossi dell'informatica e delle telecomunicazioni e poi via via tutti gli altri lo scambio lo scambio di azioni lo scambio la speculazione borsistica eccetera oggi passano tutti attraverso la rete telematica e rappresentano la stragrande maggioranza degli scambi commerciali per esempio sì esatto sono Elisabetta hai scritto una cosa interessantissima che è proprio così ma noi viviamo nella società dell'inganno allora io non voglio dare giudizi o fare affermazioni politiche eccetera io guardo solo l'aspetto da un punto di vista filosofico noi siamo di fronte a una società dell'inganno se voi ci pensate il marketing per definizione è inganno perché io ti devo convincere a comportarti in un certo modo quindi non ha nulla a che fare con la pedagogia ecco se vogliamo ritornare al nostro sistema non c'è niente di pedagogico dopodiché se l'insegnante Graziella utilizza un sistema telematico per svolgere bene dei compiti pedagogici questo le fa onore chiaramente ed è un buon utilizzo ma non è diciamo questo lo scopo lo scopo della rete chiaramente allora torniamo ma Piera dice che se si dicono queste cose passiamo per complottisti no non è complottisti questo lo riconoscono tutti qualsiasi esperto di tecnologie telematiche digitale esperto reale che si occupa di queste cose io ho scritto un libro nel 96 in cui già dicevo tutto questo conoscevo Rengold tra l'altro ho scritto delle riflessioni in Italia le ho ripubblicate recentemente proprio perché sono di grande attualità il libro è gratuito poi ve lo passo che ha voglia di approfondire non lo possiamo fare adesso però possiamo continuare poi le discussioni nei forum non lo possiamo fare adesso perché adesso abbiamo una questione decisiva da affrontare che è una questione pedagogica molto importante che voglio introdurvi e quindi passiamo alla slide numero 21 che è questa è la storia del campione di basket e del pescatore voi vedrete che nella dispensa io parlo dedico alcune pagine a Vygotsky che io sono di formazione pedagogica conosco molto bene la pedagogia e la sua storia la conosco per fonti dirette e non per diciamo sentito dire perché ho letto qualche dispensa universitaria tengo a precisare perché Vygotsky in pochi l'hanno letto realmente partendo dalle fonti e vengo dalla scuola elementare ho insegnato dieci anni nella scuola elementare poi ho insegnato in quelle superiori ho insegnato anche nella scuola media insomma ho un certo bagaglio che mi consente anche di fare delle riflessioni di un certo tipo e ha ragione veduta perché perché vedrete che su Vygotsky cercano anche molte idee che sono sbagliate non corrispondono alla fonte del suo pensiero ma quello che noi ci dobbiamo chiedere è una questione cioè come si forma il pensiero concettuale cioè nell'aiutare i bambini piccoli grandi ad andare avanti nel loro nell'apprendimento e nello sviluppo cognitivo quali sono gli elementi che intervengono allora una cosa l'avete vista già sabato chiacchierando con Laura e cioè è preferibile che l'ambiente di apprendimento sia diverso dall'ambiente quotidiano questo è quello che vi ha detto Laura sabato perché la riflessione psicologica e psicoanalitica coincide ma è anche quello che sono i risultati delle ricerche a cui è giunto Vygotsky negli anni 30 lui lavorava a Mosca a Mosca c'era una dittatura in quell'epoca lui era relativamente libero di svolgere le sue indagini con decine di migliaia di bambini e ha scritto molto ed è arrivato a delle conclusioni con il suo staff nel suo staff c'era anche Luria che è un altro grande psicologo dell'epoca tuttavia i libri che sono stati pubblicati in quegli anni 1930 33 34 36 erano gli anni bui dello stalinismo in Unione Sovietica e questi libri sono stati manipolati e le traduzioni internazionali di Vygotsky nella maggior parte dei casi sono traduzioni tratte dalle fonti staliniane manipolate in Italia per esempio abbiamo una sola versione originale che è una versione del 99 se non ricordo male comunque l'ho scritto mentre le altre non sono attendibili quindi bisogna fare molta molta attenzione quando si parla di Vygotsky allora Vygotsky in sostanza diceva questo io gioco a palla sono un questo esempio lo faccio io traduco il pensiero di Vygotsky è un giocatore di basket lo vedete qui questo bambino ed è bravissimo gioca a palla in un modo fenomenale ma non potrà mai apprendere i concetti non dico matematici ma anche il concetto di sfericità e le sue proprietà elementari non le potrà mai apprendere se continuerà a considerare la palla come lo strumento il prolungamento del suo braccio e lo strumento per fare il canestro bisogna che lui si stacchi da questa esperienza quotidiana per poter studiare l'oggetto l'oggetto palla come una figura geometrica con le sue proprietà ora se non avviene questo meccanismo non può esserci dice Vygotsky sviluppo del pensiero concettuale in particolare non può esserci un passaggio dai concetti spontanei ai concetti scientifici e lo vedete nella seconda immagine che avete qui qui abbiamo due bambini che osservano la natura diciamo due bambini che vanno a pescare pescano e osservano e vedono che i pesci muoiono quando vengono pescati vengono vedono che ci sono degli altri animali che vivono sia sulla terra che in acqua e altri che invece muoiono non appena toccano l'acqua o sprofondano nell'acqua però questi sono i concetti spontanei cioè capiscono che da un punto di vista concettuale la vita non è la stessa a secondo degli animali con cui hanno a che fare ma più in là non possono andare se non c'è da parte loro il distacco dall'essere pescatori per diventare osservatori cioè per diventare quello che Darwin ha fatto all'Eiso dei Galapagos non è andato all'Egoles Galapagos per raccogliere conchiglie è andato per studiare conchiglie e quindi è passato da un sistema di incorniciamento di conchiglie della loro bellezza delle loro forme allo studio di qual è il significato di questi molluschi di questi animali allora è questa l'operazione che bisogna compiere per portare avanti l'apprendimento e passare allo sviluppo del pensiero concettuale cioè la dico in termini grossi bisogna rompere con l'esperienza dall'esperienza non si impara dall'esperienza si imparano gli elementi basilari che sono appunto i concetti spontanei dopodiché l'apprendimento può avvenire in due modi uno o c'è qualcuno che ti spiega oppure tu sei così intelligente da staccarti e da metterti nei panni di Darwin non c'è altra possibilità spontaneamente l'apprendimento non sorge dall'esperienza quante volte voi avete detto a delle persone piccole o grandi ma non ti ha insegnato niente ma continui a comportarti no l'esperienza non insegna l'esperienza insegna a vivere a muoversi nella realtà a creare delle routine ma senza una riflessione cioè senza un distacco intellettuale da ciò che tu stai facendo per metterlo sotto il microscopio dell'osservazione non c'è apprendimento ed ecco dunque che la scuola ti serve per questo e questo vale ovviamente anche a maggior ragione per la didattica a distanza un'altra cosa importante che leggerete riguarda il principio che è un principio di Vygotsky che però di cui se ne parla pochissimo pochissimi pedagogi italiani psicologi italiani menzionano questo principio che è il principio di equivalenza dei concetti che è un principio di straordinaria importanza perché che cosa stabilisce questo principio questo principio stabilisce che io posso avere capito quindi avere sviluppato da un punto di vista simbolico un concetto che può essere quello di respirazione per gli animali di regno vegetale animali certe caratteristiche ma questo concetto essendo legato da una rete ad altri concetti equivalenti lungo l'asse lo vedete qua lungo l'asse dei paralleli dei meridiani quindi essendo legato a una catena di concetti lo vedete sull'immagine di destra l'ultima in fondo della diapositiva succede che io non ho uno sviluppo concettuale solo nelle scienze ma ce l'ho anche in letteratura ce l'ho anche in storia in misura diversa con forme quantitative qualitative diverse ma lo sviluppo concettuale come un treno che trascina con sé una serie di vagoni che non necessariamente hanno a che fare con quella disciplina ed ecco che qui c'è la comprensione teorica di una questione che nessuno capisce quando quando delle persone che non sanno niente di scuola scrivono sui vari forum e si permettono di dire le loro opinioni astruse quando scrivono che il latino non serve questo non serve cosa serve la matematica cosa serve quello perché non capiscono non sanno sono ignoranti sul fatto che noi non studiamo le discipline solo e unicamente perché è utile saper fare di conto leggere e scrivere d'accordo ma non so risolvere una funzione servirà a chi nella vita utilizzerà questo scolpire servirà a chi magari diventerà scultore ma noi non non lavoriamo con i nostri studenti affinché diventino tutti scultori tutti ingegneri tutti latinisti tutti scienziati no noi lavoriamo per spingere avanti la rete concettuale tutto l'apparato cognitivo e quindi le discipline le diverse discipline di insegnamento servono precisamente perché hanno questa capacità se io studio delle strutture grammaticali io sviluppo un pensiero concettuale classificatorio che mi serve in tutta un'altra serie di situazioni dopodiché non utilizzerò mai più la grammatica anche se diventerò giornalista non starò più a pensare che cosa devo fare o come si scrive una determinata formula ma non è quello il problema il problema è esattamente che noi strappiamo i soggetti dalla loro esperienza li portiamo a ragionare sulla loro esperienza e in questo fornendo dei contenuti dei contenuti che devono essere classificati disciplinariamente perché ogni disciplina ha le sue metodologie questo è chiaro ma quello che noi facciamo ha un'influenza reciproca su tutta chiamiamola cultura che il soggetto poi acquisirà ma che in realtà il suo vero nome è sviluppo sviluppo cognitivo portare avanti lo sviluppo cognitivo allora vi ho svelato e qui possiamo passare alla slide numero 22 vi ho svelato vi ho svelato il perché da un punto di vista pedagogico e cognitivo reale noi siamo dentro l'icona noi siamo dentro l'icona esattamente per portarvi a ragionare su dei processi che collocati all'interno delle vostre abitudini voi non sareste stati in grado di osservare con la stessa precisione con la quale noi oggi invece lo possiamo fare cioè non sareste stati dei Darwin anzi ci saremmo trovati in una situazione selettiva molto selettiva perché solo chi di voi avesse avuto una capacità particolare una delle cognizioni particolari sarebbe potuto giungere a determinate occasioni vi ricordate prima dicevo quindi il bambino o è in grado lui di fare Darwin o qualcuno glielo deve insegnare non ci sono alternative ma se nessuno glielo insegna e noi ci dovessimo affidare solo la capacità di un bambino di diventare Darwin noi avremmo che forse il 5% della popolazione mondiale sarebbe istruito e avrebbe in mano le leve della conoscenza e del sapere perché gli altri non uscirebbero mai dalla loro anzi tutta la storia mondiale sarebbe relegata all'età della pietra perché se noi tutti dovessimo imparare tramite l'esperienza noi dovremmo ripetere tutta l'esperienza dei nostri predecessori e questo sarebbe un'assurdità completa ed ecco allora che si giustificano due cose si giustifica uno il fatto che io debba poter insegnare delle nozioni pure e semplici in modo che tu le impari perché queste sono la base e quindi posso fare una lezione cattedratica anche tradizionale fornirti degli schemi e dire guarda questo te lo devi proprio imparare e poi possa fare invece anche un'altra operazione che è quella di utilizzare la scoperta di utilizzare tutta una serie di sistemi che sono quelli che stiamo anche applicando di gamification eccetera di storytelling di narrazione di creatività per fare in modo che tu possa sviluppare le tue conoscenze non solo attraverso un apprendimento di questo del primo tipo diciamo così ma sviluppando anche la tua creatività e permettendoti di costruire delle esperienze perché la questione qui chiudo su questo argomento la questione è questa ragioniamo un attimo vi prego di seguirmi è l'ultimo sforzo diciamo così un po' complicato di oggi se io devo rompere con l'esperienza per apprendere il punto è che per rompere con un'esperienza io l'esperienza la devo avere se no come rompo con l'esperienza come mi distacco da un'esperienza se questa esperienza non ce l'ho e allora ecco che la scuola istituisce dei laboratori e allora ecco che alla scuola elementare la scuola materna voi lavorate su operazioni concrete e poi purtroppo più la scuola va avanti e meno ci sono queste occasioni che sarebbe sempre necessario avere sempre anche alle scuole superiori dove invece per esempio stanno riducendo le ore di laboratorio io insegno in un istituto tecnico e professionale dove per esempio le ore di laboratorio vengono ridotte questo è gravissimo perché io devo poter rompere con l'esperienza per poter crescere ma queste esperienze in qualche modo la devo avere ed ecco perché noi siamo dentro un ambiente virtuale perché per poterne fare a meno dell'ambiente stesso e quindi ragionare su concetti puri in qualche modo devo aver partecipato al gioco e allora stiamo facendo questa doppia operazione giochiamo ma cerchiamo di capire anche perché giochiamo seguiamo una lezione webinar ma cerchiamo di capire perché questa lezione propone un sondaggio un'altra attività eccetera perché ci sono delle slide per esempio disegnate non solo con i testi e così via tutto questo serve ad arricchire un'esperienza dalla quale noi ci dobbiamo separare per poter esaminare bene che cos'è l'e-learning che cosa sono le metodologie fondate su storytelling game come si possono applicare e in che modo poi io lo posso applicare con bambini di tre anni o di dieci o di venti o con adulti di cinquanta quindi questo è proprio veramente lo scopo e allora adesso sì che possiamo ragionare sull'organizzazione dell'ambiente quindi qui troverete troverete queste come si chiama queste associazioni tra stanza e funzione della stanza da un punto di vista dell'organizzazione siamo alla slide 23 le troverete dal punto quindi la slide è successiva le troverete dal punto di vista dell'organizzazione cioè articolazione dell'ambiente funzionale all'organizzazione dell'apprendimento e poi slide numero 24 quella successiva organizzazione dell'ambiente funzionale allo sviluppo di relazioni perché un'altra questione della massima importanza è che questo meccanismo attraverso il quale il bambino deve distaccarsi dall'esperienza per sviluppare il suo pensiero concettuale necessita il fatto che lo porti in relazione con qualcuno perché una relazione ma perché questo qualcuno si deve in qualche modo rendere conto del processo di distacco di questo bambino a che punto è lo deve fare attraverso l'osservazione e quindi non può esserci una osservazione di questo processo senza che ci sia una relazione costituita tra il maestro e il bambino questa relazione guardate che non è fine a se stessa questa relazione è finalizzata all'apprendimento ma non è una relazione finta è una relazione vera è una relazione affettiva reale che esiste a tutte le età a tutti i livelli ed è quella che permette all'apprendimento di svilupparsi perché permette all'apprendimento di svilupparsi ma è semplice perché permette all'insegnante di avere degli strumenti di osservazione questo lo vedremo però nel capitolo 3 la settimana successiva analizzeremo proprio alcune particolarità di questa relazione anche poi soprattutto a distanza questo è quello di cui io vi volevo parlare oggi e che poi voi potete leggere anche con più particolari nel come si chiama nel libro nel manuale e se passate alla slide 25 io vi illustro il compito due compiti non da fare adesso perché prima dovete magari vedere la dispensa ne discutiamo un po' vedete alcune cose vi devo consegnare anche il tutorial però voglio illustrarvi il compito allora il compito che avete è questo è progetta il tuo ambiente puoi progettare il tuo ambiente in questi modi tre modi diversi allora qui lo vedete siamo alla slide 26 in questo riquadro giallo vedete a se gestisce una piattaforma può darsi che ci sia qualcuno di voi magari che gestisce delle piattaforme è interessato addirittura può darsi che qualcuno di voi abbia anche un pallino informatico per queste cose quindi allora in questo caso può anche costruire direttamente un ambiente di tipo informatico dentro una piattaforma poi caso B invece puoi creare un modello simbolico attraverso Google Site vi ricordate ve ne ho parlato all'inizio di questa lezione Google Site Google Site vi consente di creare una pagina web che poi rimanda dentro il manuale avete il link all'esempio che vi ho proposto poi domani riceverete anche un tutorial che vi consentirà di utilizzare Google Site ma anche qui può darsi che qualcuno di voi lo sappia già usare e lo usi allora ecco che all'interno del forum ci possiamo scambiare delle degli aiuti dei trucchi dei suggerimenti anche perché l'esperienza che magari qualcuno di voi può avere può essere utile per altri che poi possono contribuire invece andando avanti sotto altri aspetti caso C non è detto che tu desideri o abbia la possibilità di svolgere il compito nel modo A o nel modo B e allora c'è il modo C il modo C consiste nel fatto che semplicemente puoi tracciare un disegno uno schema a mano libera oppure con qualsiasi applicazione il risultato comunque sarà sempre un oggetto grafico tu questo oggetto grafico lo fotografi quindi sarà l'immagine di una piattaforma sarà l'immagine di Google Site sarà l'immagine del tuo disegno la depositerai qui vedete c'è il link per la consegna del tuo lavoro noi vedremo questi lavori ne selezioneremo qualcuno per poterne discutere la volta prossima in modo tale che ogni nuovo incontro possa cominciare con l'esame di qualche lavoro preso ad esempio della settimana trascorsa precedente quindi penso che sia tutto chiaro puoi svolgere il compito C anche se sei il dio sceso in terra delle piattaforme e però in questo periodo non hai tempo di metterti via ad allestire fare eccetera e quindi ti misurerai con uno schizzo non è questa la questione cioè non è una graduatoria di valori questa assolutamente anzi voi sapete che tutte le volte che si progetta qualcosa si parte da uno schizzo quindi questo è il primo lavoro da fare il secondo lavoro che vi propongo è questo quando leggete la piattaforma e c'è il manuale vi ricordate quindi siamo alla slide 26 vi ricordate che prima vi ho spiegato che all'interno di questo capitolo abbiamo associato le stanze con le loro funzioni c'erano quelle rivolte all'organizzazione quelle rivolte alle relazioni eccetera allora questo è un gioco il gioco dell'accoppiamento voi farete questo widget e cercherete di accoppiare gli elementi fra di loro in modo che siano corretti bene questo l'avremmo potuto fare anche oggi però sono già le 19 perché perché in realtà è un giochetto molto semplice vi annuncio già che questo tipo di gioco serve per consolidare un apprendimento che non si è ancora fatto cioè voi non avete studiato ancora il capitolo che riguarda gli accoppiamenti io in questo caso ve l'avrei fatto rapidamente leggere vi avrei lasciato qualche minuto così proprio per dare un'occhiata e poi vi avrei proposto questo gioco perché perché questo gioco avrebbe spinto avanti quello che voi avreste potuto conoscere attraverso la lettura e quindi si tratta non di una verifica di un test che verifica quanto voi conoscete ma di un test rivolto al rafforzamento di un apprendimento in corso ma di tutto questo poi ci occuperemo nel terzo capitolo quindi la settimana prossima ed ecco che io avrei concluso e quindi vediamo se c'è qualche vostro intervento qualche vostra osservazione qui c'è già una domanda di Emanuela che dice per gestire una piattaforma intendi utilizzarla no intendo che siate gli amministratori perché se la utilizzate non potete modificarla quindi intendo proprio essere amministratori di una piattaforma quindi metterla in piedi Alberto cioè ti diverti aspettare a sdramatizzare godi ma ha anche ragione lo dobbiamo fare seriamente però è anche vero che provarci senza aver letto il manuale è un modo per valutare le nostre conoscenze sono d'accordissimo giusto è come quando si nota una cosa e dici ma perché mi devo leggere questa cosa dell'IKEA insomma che ne annoia vado in tutto lassù e poi si conoscono subito i limiti e dunque si va perché non c'è problema ricordatevi poi di inserire la vostra mail e di farvi spedire i risultati del vostro lavoro così torta JPEG mi hanno inviato una torta fantastico se ti accontenti del virtuale diciamo che no questo è uno dei pochi ammazza però è uno dei pochi casi in cui io proprio del virtuale me ne sbatto completamente mi spiace in questo momento questo c'è in questo momento questo passa il commento esatto ma io vengo vengo in Sardegna comunque carino almeno una volta all'anno mi capita di venire quindi abbi pietà Luisa sta crollando e tutti gli altri sì 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 certo abbi pietà insomma perché veramente io mi vedo stanche insomma mo zumbate va bene allora io direi che possiamo chiudere quindi come webinar ci vedremo lunedì prossimo come incontro così e poi ok grazie Alberto veramente interessante ecco spero che sia interessato è stato un piacere collaborare con voi grazie buonasera 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 segnatevi segnatevi tutti ciao 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 a tutti ciao 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 e come si chiude ciao a tutti livo arrivederci ciao 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 a tutti livo ok grazie però se ho finito qua il gioco va il gioco il widget poi dopo lo faccio e lo spedisci invia lo spedirlo eh ma non capisco come si spedisce perdonami l'ho finito tutte le cose mi ha detto complimenti e come lo spedisco eh sto facendo dal cellulare dal click dovrebbe esserci un tasto perché ho fatto col codice QR eh dovrebbe esserci un tasto di invio eh non c'è io lo sto finendo ti ha chiesto di inserire ti ha chiesto di inserire la mia io lo finisco ma non vado a allora questo è il principio allora scorri un poco da qualche parte ti darà anche la quindi basta così troppo ciao 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 Grazie per la visione!